Cari amici, buongiorno a tutti. Io oggi non vi dico niente di nuovo, ma facciamo un piccolo ripasso, come a scuola. Vi leggo una lista di nomi, vi dico che cosa hanno fatto questi signori, signori si fa per dire, vi dico anche cosa si meriterebbero sempre a mio parere e vi dico infine che cosa possiamo fare noi, che cosa potete fare voi, che cosa possiamo fare noi tutti italiani in quanti elettori e cittadini consapevoli, italiani che hanno preso coscienza. Diamo lettura a questa lista. Mercedes Bresso, PD. Massimo Paolucci, PD. Roberto Gualtieri, PD. Renato Soru, PD. Sergio Cofferati, PD. Gianni Pittella, PD. Casceto Chienghe, PD. Patrizia Troia, pardon, Toia, PD. Andrea Cozzolino, PD. David Sassoli, PD. Pier Antonio Panzeri, PD. Flavio Zanonato, PD. Questi signori, questi qui, sono deputati italiani che a suo tempo hanno votato sì all'olio tunisino, permettendo appunto questa invasione di olio che ha creato ulteriori gravi difficoltà ai produttori nostrani, ai produttori italiani che, come sapete, sono una vera eccellenza. Il nostro olio, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, è stato fantastico. È sempre stato di una qualità fantastica. Cosa meriterebbero per me questi signori? Forse è meglio che non ve lo dica, contrariamente a quanto detto in precedenza, perché potrei essere accusato di istigazione all'omicidio. Quindi, come dico io, mondo maiorano, mondo maiorano, lasciamo perdere. Evitiamo questo tasto. Però, i nomi ve li ho detti. Che cosa hanno fatto questi, questi, questi PD, casualmente, molto casualmente erano tutti del PD, come avete visto, ve l'ho detto. E vi dico anche che cosa possiamo fare noi e che cosa potete fare voi. Mondo maiorano, una cosa molto semplice. Potete evitare di votarli, non votarli mai più, non votare mai più questi anti-italiani del cazzo che hanno compiuto azioni sciagurate simili. Viva l'Italia, viva gli italiani, alla prossima!